Se Higuaín va alla Juve e segna più di 15 gol, c'è mio nipote e mio ereto questo qui, mi taglio l'uccello. Che non serve più! Perché Higuaín ha segnato 36 gol perché erano in Napoli che giocavano tutti per lui, ma non è che fosse strunzi, se non vuole e se non va pure. Alla faccia del bicarbonato di sodio! Alla faccia del bicarbonato di Samao. Hidira può fare il dubbio, ma anche se Hidira. A scelta Gonzalo Iguuaín! Il primo gol per Juventus! Il primo gol per nuove futebol di Gonzalo Iguuaín! La felicità di Pippito! 2-1, Juventus è venuto, e, ovviamente...